Ciao ragazzi, io sono Omar e per questo nuovo video di un unboxing, il primo episodio del mio canale e qua apriremo il Huawei P Smart Plus, se lo vedete bene a fuoco e oggi lo apriremo ok, qua c'è il telefono, lo lasciamo per dopo ecco, iniziamo il gioco dal primo pacchetto, apriamolo qua c'è un cosa che non conosco, però serve, non lo so poi qua ci sono libri, la cover, pure ed eccola, trasparente, andremo ad aprire ecco ragazzi, quanto è bello poi c'è il caricabatterie, questo aspetta, aspetta, ok ok, eccolo ragazzi, abbastanza lungo poi c'è il carico ovviamente, della Huawei e poi qua ci sono, penso, le cuffie sì, eccole sembrano un tipo quelle dell'iPhone ecco ragazzi, sono le mie preferite comunque ecco, è abbastanza lunga, anche queste e adesso andremo a spacchettare il telefono eccola ragazzi, è fantastico è bellissimo adesso andremo a togliere le cose di plastica eh, va bene se non riesce pure davanti ah no ecco ragazzi, guardate pure dietro adesso metto la cover un po' difficile per me ok, ecco adesso lo accendiamo ok, ecco ragazzi si sta accendendo ora vediamo comunque ditemi sotto i commenti cosa serve sto cosa ok, non so cos'è faccio una cosa per te ecco comunque è molto bello 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 qua ovviamente c'è l'autoparlante qua il filo del carico e qua per le cuffie poi qua c'è non iniziamo sennò poi qua c'è qua ti riconosce dalla faccia per sbloccare il telefono col dito schiacciato il dito qua poi e poi c'è il contratto e la camera comunque qua c'è tutte le lingue e vabbè raga spero che il video vi sia piaciuto lasciate like commentate e ci vediamo al prossimo video ciao raga ciao